Tagon Quarte Quine della Trude Isoligen Amsterdam, mi volano parole con voi, perché penso che io alvenis in mio capone tutte, senza un invito. Iecchio grado ogni povas influi nian conduton per honori cae titoloi, aparte in esperantoio. In esperantoio, che iniziasi, il ruolo della mano, almeno o sul faccio, è sufficiente. All'alto. Homoi formas estraroin, concursoin, donas premioin, medaloin, creas panteonoin. Tivi aferoi caressas nian egoon, facte, au nian mion, se vi preferas. Sed, ciò valora la pena, post ciasi ilin, au ciò prefereni, pripenso, occupigi pri aliai aferui. Io la domando. No. Mi lascio fin alla medito non. Resto con ni, con medito con ni. No. Danko. No. 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 Saluto e buone buone benze a la nuova Samenhof. Adesso mi voglio leggere e meditare con voi su un articolo di lingua internazionale di 1903, che è il titolo che ha spiegato il mistero del contratto. E mi leggo parto nella fine. È il pagio 226. La firma Hachette, intraprendente e elaborato per ogni affero, postulis che ne dono al G garantione che la finanza e i fructi di G elaborato appartengono al Gmèm, che ne all'allie persone o firmo, che se ne pagano usano i fructi di G elaborato. L'affirmo si è molto buono che tutti i reati del Mastro e l'afferra Esperanta mi forgettano di me. Tanto ci sono anche tutte le postulis che mi fordonano al G monopolo super Esperanto. Ci sono tre errori, che in tutte le senni cause pensano molti esperantisti. dove vedo tutti i suoi conti, sono molto interessanti. Perché si mostrano che il relato tra l'esperanto affero e il mondo è molto facile. Cioè, in realtà, Samenhoff chiarisce molto bene ciò che ci sono dei mestri sulle lingue. Sed, cion li intenzis diri per tio? Che nenniu povas vere al proprighi, al sì, la raiton decidi per l'essenzo e l'estontezzo della lingua. Se tio ne signifas che tutti gli esperanto parolanti sono uguali, infatti, perché alcuni sono in posizioni in cui può influire la lingua. Cioè, mi pensas che c'è tiu problema della rilato interla esperanto mondo. Cioè, morgaino è ancora oltre attuale, mi pensas. Comprenebile, nenniu havas la monopolo superesperanto, se tio... Laumì... Tio fact estis, laumì la basa chialo, ma lontano oltre a decidere liberare la lingua in tutte le ideologie e i mestri in un nuovo congresso in Bologna. Infatti, tio fact estis esattamente tio. Tio fact estis due ore post citio. Grave evento in l'attima. Esperanto Historia. Sì, ciò che pensate che sia facile la rilato intermongaino e esperanto? Vieni, chialo per comandare. Grazie, proviamo attenti, fino a ora e vi saluto. A presto, senza fine. Grazie. 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 Grazie.